buongiorno a tutti oggi ci occupiamo di resistenze equivalenti faremo una misura di resistenza equivalente prima come al solito facciamo un breve richiamo teorico intanto vediamo il materiale che andiamo ad utilizzare sicuramente utilizziamo una scheda arduino per fare le acquisizioni io vi ricordo sto utilizzando una scheda elego compatibile ed è un elego mega però è sufficiente un arduino uno per fare questa esperienza addirittura un arduino nano dopodiché andiamo ad utilizzare due resistenze del valore di un kilom due resistenze del valore di due kilom ok alcuni cavetti ovviamente per realizzare le connessioni facciamo un breve richiamo teorico e cominciamo ad analizzare il circuito di nostro interesse quindi oggi ragioneremo su un circuito relativamente semplice composto da inizialmente abbiamo tre resistenze una resistenza r1 poi andiamo a mettere una resistenza r2 connessa in questo modo e poi vado a mettere un'ulteriore resistenza facciamo così la duplico e poi la modifico di nome questa qua è la resistenza r3 ed ecco qua che abbiamo realizzato quasi il nostro circuito vado a chiudere rispetto a questo terminale questi sono i terminali a e b e vogliamo calcolare la resistenza equivalente rispetto ai terminali a e b mettiamo dei valori supponiamo che questa valga 1 kilom che la resistenza r2 valga 2 kilom e che la resistenza r3 valga 3 kilom questi sono esattamente i valori che andremo ad utilizzare e supponiamo di voler calcolare la resistenza equivalente rispetto ai terminali a e b il conto è abbastanza semplice perché la nostra resistenza equivalente è pari a r1 più r2 in parallelo ad r3 non dobbiamo neanche scomodare una calcolatrice perché questa vale 1 kilom questa vale 2 kilom questa vale 2 kilom due resistenze in parallelo di pari valore mi danno una resistenza di valore pari alla metà quindi 1 kilom e 1 kilom più 1 kilom mi fornisce una resistenza del valore di 2 kilom quindi noi vogliamo metterci nelle condizioni di poter fare una misura su un circuito di questo tipo che ci permetterà di verificare questo conto analitico duplichiamo il nostro circuito e passiamo andando per gradi a quella che è la possibile misura per quantificare questa resistenza equivalente quindi pulisco un pochettino il circuito dunque intanto io ricordo e ricordo proprio adesso che stiamo parlando di misura che questi video non sono finalizzati a delle misure di precisione utilizzo le misure per far comprendere un po' meglio per far assimilare un po' meglio dei discorsi teorici che rimarrebbero se no molto astratti quindi io non vi darò delle informazioni per fare misure di precisione vi darò delle informazioni che vi permettono di fare delle mini esperienze di laboratorio che permettono di capire un po' meglio gli argomenti teorici quindi cosa possiamo immaginare qui come setup sperimentale? direi che se noi andiamo a prendere un generatore esterno questo generatore esterno lo chiamo V1 e andiamo con questo generatore ad alimentare questa rete chiaramente il nostro generatore alimenterà, scusate, erogherà una corrente un valore di corrente che viene assorbito dalla rete che in questo caso è una rete puramente resistiva la rete di cui vogliamo quantificare la resistenza equivalente ora, noi supponiamo di avere tutto questo in un blocco che non conosciamo però sappiamo che sono tutte resistenze beh, è lecito dire che questa rete cioè la rete che vede il mio generatore esterno si comporta come un'unica resistenza una resistenza che è proprio la nostra resistenza equivalente rispetto ai terminali A e B questa è la nostra resistenza equivalente ora, è chiaro che ai capi della nostra resistenza c'è proprio la tensione V1 la tensione di alimentazione e nella nostra resistenza viene a fluire proprio la corrente I quindi la tensione di alimentazione che noi abbiamo imposto e la corrente che eventualmente potremmo misurare sono legate tra di loro la tensione V1 scusate, qui avevo scritto una cosa sbagliata quindi la tensione V1 e la corrente I sono legate da un legame di proporzionalità la legge di Ohm e il fattore di proporzionalità è proprio la resistenza vale a dire che noi potremmo quantificare questa resistenza come rapporto della tensione di alimentazione e la corrente I voi avete capito che se misuriamo questa corrente e conosciamo questa tensione di alimentazione ne facciamo il rapporto e sperimentalmente quantifichiamo la resistenza che prima abbiamo calcolato analiticamente nasce un problema il problema è che dobbiamo misurare questa corrente e con Arduino non è così semplice andare a fare una misura di corrente se vi ricordate in precedenza nei video precedenti abbiamo fatto delle misure di tensione con questi canali qua quelli che vi sto mostrando vedete? A0, A1, A2 quelli sono degli input analogici e quelli misurano una tensione non una corrente quindi come si fa una misura di corrente? ripeto ancora una volta le informazioni che vi do sono qualitative non quantitative non è mia intenzione parlare di misure di precisione detto questo se noi con la scheda Arduino vogliamo fare una misura di corrente dobbiamo in qualche modo inventarci un trasduttore un qualcosa che misura una tensione ma in realtà tramite quella tensione riusciamo ad avere una corrente e che cos'è questo qualcosa? beh, la cosa che mi viene in mente è sfruttare questa relazione qua ok? se misuro la tensione ai capi di una resistenza allora, mediante questa legge io riesco a ricavare una corrente e questo si chiama shunt amperometrico di fatto è una resistenza una resistenza di valore noto chiamiamola RS per ricordare resistenza di shunt supponiamo che sia connessa tra il nodo H e il nodo K dove chiaramente noi siamo in grado di misurare il potenziale al nodo H e il potenziale al nodo K beh, allora se dentro questa resistenza circola questa corrente io voglio quantificarla e chiaramente la mia resistenza di shunt deve essere di un valore noto allora io posso andare a definire la caduta di potenziale ai capi di questa resistenza che chiaramente è definita come differenza di potenziale tra il nodo H e il nodo K e a questo punto la corrente I si può definire come UH-UK fratto RS queste sono due misure che io sono in grado di avere con la mia scheda Arduino perché sono due misure di tensione o meglio di potenziale ok? questa è una resistenza di valore noto e questa è la corrente che io quantifico è chiaro adesso dovrebbero nascere tutte delle considerazioni sulla precisione con cui io faccio questa misura sulla propagazione dell'incertezza ma lo ripeto non è mio interesse l'unica cosa che vi faccio notare è che chiaramente se io inserisco una resistenza di shunt nel circuito vado a perturbare la soluzione di rete quindi questa resistenza dovrebbe essere tale per cui la corrente che io voglio misurare diciamo questa non viene influenzata dall'introduzione di questa resistenza come si potrebbe fare? questa resistenza RS dovrebbe essere molto più piccola della resistenza equivalente a quel punto io non ho perturbato il circuito con una buona approssimazione ma il contro di tutto questo è che la tensione ai capi di questa resistenza sarebbe molto piccola e quindi la mia precisione di misura sarebbe molto scarsa dato che il convertitore analogico digitale lavora tra 0 e 5 volte ora tutte considerazioni giuste se io fossi veramente interessato a misurare il valore di questa corrente in questo circuito ma il nostro obiettivo non è misurare la corrente il nostro obiettivo è misurare questo rapporto la tensione fratto la corrente che circola in quella resistenza in qualunque condizione di lavoro non esattamente questa mi spiego meglio e finalmente arriveremo al circuito di misura che poi andremo a realizzare quindi duplico il circuito originale A e B vado a prendere il mio generatore esterno lo vado a piazzare qua questo è V1 e già che ci siamo questi sono i 5 volt che mi fornirà Arduino questo punto qua il terminale negativo è il riferimento di tensione quello che noi abbiamo sostanzialmente consideriamo come potenziale di riferimento e quindi potenziale nullo collego questo generatore alla mia rete dove poi andrà a fluire la corrente I che in qualche modo vogliamo misurare la resistenza diciamo lo shunt amperometrico andiamo a piazzarla qua chiamiamola RS ora la corrente I come percorso circolerà nella resistenza R1 si dividerà in questi due rami e poi ritornerà di qua quindi andrà a finire nello shunt amperometrico che è quel resistore che ci permette di misurare quella corrente come? beh abbiamo detto che ci concentriamo su il terminale B in questo caso è il terminale 0 in altri termini su questa caduta di tensione la caduta di tensione VS definita come UB meno il potenziale del terminale GND che però vale 0 quindi questa cosa qua è pari a UB da qui andremo a quantificare la corrente I la corrente I la quantifichiamo come UB fratto RS ed ecco la relazione che andremo a implementare e a utilizzare per programmare la nostra scheda Arduino per misurare la corrente ora vi faccio notare che questa tensione qua V1 non è più direttamente applicata alla nostra resistenza equivalente che è questa qua ma di mezzo c'è una resistenza che ha perturbato il nostro circuito quindi adesso per andare a definire la nostra resistenza equivalente dobbiamo andare a misurare questa tensione qua la tensione VAB chiaramente la tensione VAB è definibile come il potenziale al nodo A meno il potenziale al nodo B il potenziale al nodo A lo vedete coincide col terminale positivo del nostro generatore 5 volt volendo noi potremmo mettere 5 volt potremmo utilizzare 5 volt perché sappiamo che Arduino genera 5 volt ora se vogliamo ipotizzare che su questa connessione che per noi sarà un cavetto fisicamente presente ci possa essere un minimo di caduta di potenziale ok un minimo di caduta di tensione a questo punto noi potremmo prevedere un'ulteriore misura e quindi misurare anche il potenziale al nodo A sottrarre il potenziale al nodo B che già abbiamo misurato per misurare questa corrente e infine andare a quantificare la nostra resistenza scusate resistenza equivalente rispetto ai terminali A e B come potenziale al nodo A meno potenziale al nodo B fratto la corrente I che abbiamo misurato lì sopra ed ecco che dovremmo essere così in grado di andare a misurare questa resistenza equivalente bene detto tutto questo proviamo a passare a realizzare il nostro circuito ok quindi lo schematico che vogliamo realizzare è questo partiamo dai 5 volt andiamo ad una prima resistenza questa qua è la resistenza R1 e come vedete qui andiamo al terminale dove abbiamo la resistenza R1 qui abbiamo in parallelo la resistenza R2 e la resistenza R3 e qui abbiamo la nostra resistenza di shunt qui è scritto R4 e quella che noi abbiamo chiamato RS proviamo a realizzare questo circuito partiamo dalla resistenza R1 io lo realizzo qua e tento di farlo esattamente come è stato realizzato sullo schematico quindi inserisco la mia resistenza R1 da un ilom e la vado a piazzare qua ecco che abbiamo la prima resistenza ok questa è la resistenza R1 poi vado a mettere una delle due resistenze da 2 kilohm eccoci qua questa ok questa è la resistenza R2 e poi andiamo a mettere la resistenza R3 ecco qua esattamente in parallelo all'altra resistenza bene rimane da collegare la resistenza di shunt ok questa resistenza va in serie al circuito quindi parto da questo terminale vado a scegliere una posizione qui dove inserire terminale negativo perfetto abbiamo il nostro circuito con la resistenza R1 la resistenza R2 la resistenza R3 e la resistenza di shunt per cui adesso prendiamo il cavetto rosso ok quello che mi porta i 5 volt al terminale della resistenza R1 quindi vengo qua prendo i 5 volt e li porto ad alimentare il mio circuito poi prendo il GND eccoci qua e lo porto sul sulla resistenza di shunt ecco ho alimentato il mio il mio circuito adesso vado a misurare il potenziale con questo cavetto giallo al nodo B questo è il nodo B lo portiamo ad esempio all'analog input 1 ok come è rappresentato lì nello schematico e infine con il cavetto verde questo è quello che tecnicamente potrebbe non essere necessario perché stiamo andando a misurare la tensione di alimentazione sostanzialmente ipotizziamo che su questo cavetto rosso magari ci possa essere una caduta di tensione e lo portiamo al l'ingresso analogico 0 ecco che abbiamo realizzato esattamente lo stesso circuito che abbiamo nello schematico bene ora andiamo andiamo ad aprire uno sketch di arduino intanto andremo ad utilizzare la comunicazione seriale quindi dobbiamo inizializzare serial begin ok ora come abbiamo detto quindi magari questo adesso lo piazzo da quest'altra parte e ritorno sugli appunti che sono necessari per capire cosa dobbiamo fare noi dobbiamo fare due misure di tensione ok il potenziale al nodo A che è una variabile di tipo float diventerà il nostro analog read del canale dell'ingresso analogico a zero vi ricordate che questo lo dobbiamo moltiplicare per 5 e dividere per 1024 in teoria qua ci vorrebbe un punto zero basta un punto così diventa un float poi andiamo a fare la misura del potenziale al nodo B che all'ingresso analogico 1 e a questo punto è sufficiente andare a misurare scusate intanto qua ho utilizzato una notazione malsana ma è colpa mia lapsus si fa così flot variabile a uguale flot variabile ub uguale perdonatemi ok a questo punto terza variabile andiamo a calcolare la corrente questa è la variabile i non mi piace chiamarla solo i metto current ok e questa variabile è definita come ub diviso una resistenza del valore di un kilon 1 e 3 e questo ci darà la corrente espressa in ampere e infine float mettiamo la nostra resistenza equivalente la chiamo resistance ok e questa qua è definibile come ua meno ub quindi potenziale al nodo a meno potenziale al nodo b diviso la corrente ok se abbiamo fatto tutto giusto a questo punto possiamo fare un serial print e magari stampare il nostro valore di corrente quindi current io direi che la stampiamo in milliampere quindi la moltiplichiamo per 1 e 3 ok a questo punto metto un serial print e metto anche l'unità di misura che sono dei milliampere e qui magari andiamo a capo quindi print line poi facciamo serial print print lottiamo il valore di resistenza anche questa la mettiamo in la mettiamo in kilohm quindi facciamo 1 e meno 3 ok serial print line e a questo punto mettiamo l'unità di misura l'unità di misura che sono dei kilohm questa operazione la ripetiamo ogni due secondi e dovremmo essere al punto in cui possiamo con il nostro cavetto quindi sposto il codice da questa parte andare a inserire il tutto dentro la scheda arduino quindi collego questo cavetto alla scheda arduino poi lo collego alla mia porta usb perdonatemi devo ruotare un po' il circuito ecco qua adesso come al solito beh intanto verifico che qui sia tutto connesso direi di sì perfetto andiamo a inviare lo sketch sta compilando ha inviato lo sketch tools andiamo a prendere il serial monitor e questo è ciò che otteniamo ok una corrente di 1,6 milliampere e una resistenza di 2,02 kilom facciamo ancora una cosa così miglioriamo un po' la la visualizzazione qui facciamo un anzi qui facciamo un print line e poi faccio un altro serial print line vuoto così andiamo a suddividere tools serial monitor ecco qua 1,66 milliampere 2,02 kilom questo è quanto otteniamo da questa parte vi rimetto anche il tentiamo di mettere questo lassù che sta andando così vedete anche il circuito ecco questa è la lettura che si sta ripetendo ovviamente è abbastanza stabile ecco qua dunque la corrente intanto vogliamo quantificarla la corrente dovrebbe essere un 5 la corrente la corrente qui attenzione fatemi pensare la corrente e questa la possiamo quantificare quindi questo lo sto facendo al volo perché mi viene in mente adesso ipython noi stiamo alimentando a 5 volt e abbiamo una resistenza da 1 kilom in serie due resistenze in parallelo le vedete lì da 2 kilom che mi fanno 1 kilom e poi abbiamo aggiunto la nostra resistenza di shunt che è una resistenza forse lì mi sono dimenticato di dirlo è una resistenza a sua volta di 1 kilom ed ecco che abbiamo questi 1,66 milliampere ora vogliamo provare a fare una cosa in real time se io togliessi la resistenza r3 cosa ci aspettiamo ci aspettiamo di fare la misura di r1 in serie ad r2 quindi questo numerino qua dovrebbe diventare pari a 3 kilom proviamo a farlo togliamo questa questa qua era la resistenza di era la resistenza r3 se io la tolgo ecco che arriviamo ad avere una resistenza di 3 kilom va bene e direi che con oggi è tutto abbiamo ripassato il concetto di resistenza equivalente l'abbiamo misurata e abbiamo verificato che il nostro codice funziona sia nel caso che avevamo ideato e sia con quest'ultima variazione in cui abbiamo variato il circuito e variato la resistenza equivalente bene è tutto ci troviamo al prossimo video